Vuoi acquisire competenze per conoscere i nuovi modelli d'impresa? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di UNINET 1 in Industria 4.0 della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UNINET 1. Con UNINET 1 l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più www.uninett1university.net UNINET 1. Nel futuro. Da sempre.